Paura per Alessandra Mussolini in studio. L'ex parlamentare ha avuto un cedimento e ha fatto preoccupare tutti, lo ricordate? Alessandra Mussolini è uno dei personaggi del momento. L'ex parlamentare ultimamente ha messo da parte la politica per darsi maggiormente alla televisione. Del resto lei in tv c'è sempre stata, anche se come esponente politico. Non si è mai tirata indietro nel dire la sua, ospite negli anni di tantissime trasmissioni. Ma ultimamente, e soprattutto grazie alla Rai, la Mussolini si è data maggiormente allo spettacolo. Tutto merito di Millie Carlucci che l'ha voluta nel suo cast di Ballando con le stelle prima e ora in quello del cantante mascherato. L'ex parlamentare ha mostrato le sue doti di performer che nessuno si aspettava. Prima con il ballo e poi con la voce svelandosi dietro la maschera di pecorella. Insomma una nuova veste di un'Alessandra che forse pochi conoscevano e che piace molto al pubblico. Ma come spesso accade ci sono degli avvenimenti che non si dimenticano. Impossibile farlo con il malore che la Mussolini ha avuto proprio nel talent di Millie Carlucci, ve lo ricordate? Alessandra Mussolini, il cedimento in studio, paura e successo tutto in diretta. Alessandra Mussolini stava per terminare la sua esibizione a Ballando con le stelle quando improvvisamente si è accasciata a terra a causa di un malore. Era in pista con il suo maestro Michael Fonts mentre si esibiva in una samba e ha lasciati tutti di stucco e con il fiato sospeso. Una spettacolare presa che l'ha portata in alto aveva appena realizzato l'ex parlamentare con tre giri in aria quando ha avuto un mancamento ed è finita a terra. Si è accasciata sul pavimento la concorrente facendo pensare inizialmente di essere estremata per la fatica. Ma poi si è a Millie Carlucci che Fonz hanno iniziato a preoccuparsi. Ti senti male? Le ha chiesto la conduttrice mentre Mussolini rimaneva a terra. Sono accorsi gli assistenti con acqua e cioccolata e subito in pubblicità. Al ritorno in studio la padrona di casa ha rassicurato i telespettatori spiegando cosa era successo e ribadendo che la Mussolini stava bene. Non ha voluto mangiare per fare la figura ha detto la Carlucci ma in questo modo è stato come aver preso un pugno nello stomaco. Poi la parola alla diretta interessata che ha detto Mi dispiace ho avuto un cedimento. Mi dispiace ho avuto un cedimento. Mi dispiace ho avuto un cedimento.